Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuTheGamer, benvenuti in un nuovo video E oggi ci ritroviamo su Uncharted 4 ragazzi, finalmente! Era molto che lo aspettavate e ci ritroviamo di nuovo qui Ci faremo comunque principalmente battagli online Quindi, cuffie E vediamo come finisce sta cosa Ok, iniziamo, perfetto Allora, quanto amo questa visuale così ragazzi È molto arcade e mi piace un bordello Questa mappa non mi pare di averla mai giocata Uh, lì c'è un tesoro Già sento degli spari Uh, figa, una Ferrari Ferrari, vero? No, non lo sapremo mai Comunque già sento dei brutti spari Uh, 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 uh Il bastardello lì, eh? Porca! Madosca ragazzi! Che bo... Tanta roba, non si capisce nulla, mio Dio! Ecco qui col rampino Alla molto Indiana Jones Ok, attenzione, attenzione Madonna mia però Attenzione ragazzi, dobbiamo andarcene assolutamente Che lui convinto Di arregarci qualche danno Ha sbagliato a lanciare oggetto Ok ragazzi, dobbiamo andarcene Uh, c'è da dire che qui abbiamo i nostri amici Quindi magari potremmo provare un approccio più diretto Noi proviamoci, stiamo attenti Però ragazzi, dobbiamo stare assolutamente attenti Bam! Colpito Dai, dai Perfetto, perfetto Gioco di squadra, gioco di squadra Dobbiamo vincere Ti curo, ti curo, ti curo, ti curo Ti curo, ti curo Bam! Grandi ragazzi, ok Bene Ma stiamo attenti che lì mi pare di aver visto il nemico Sì, non sbagliavo Mi ho fatto headshot No, devo spararlo Porca Ragazzo, faccio Ok, perfetto Che io Ora Manca Mancano quei due bastardelli Potremmo sparare a qualche auto Io voglio dire che non ho granate Quindi non posso approcciarmi da questo punto di vista Ma potrei provare a far esplodere qualche auto Allora, stiamo attenti che lì C'è il cecchino bello lì Cosa Noi possiamo utilizzare però il nostro mirino Se solo riuscissimo ad utilizzarlo nel modo giusto Dobbiamo stare attenti a non stare esposti per troppo tempo O fa finire che un bel cecchino ci vede e ci fa il culo Stiamo anche finendo le munizioni No, questo non ci voleva Questo non ci voleva Uccidiamo lui E prendiamoci le sue munizioni Perfetto Allora Le carichiamo Abbiamolo la pistola Siamo la pistola più veloce dell'west ragazzi Questa cosa non mi piace per nulla Allora, vediamo un po' Wow Cosa hanno fatto? Dov'è? Wow ragazzi, attenzione eh Qui stiamo facendo un giro e non so dove sono i nemici Ah ok, hanno cambiato Perfetto, sono dall'altro lato Devo cambiare armi ragazzi Questa è troppo imprecisa Ok, ho un po' di colpi Perfetto Le avevo raccolti prima, giusto Ok, vai Uno e giù Attenzione ragazzi E qua io ci scommetto Tutto che c'è qualcuno In mezzo a sto fumo No? Ok, scherzavo Non ci scommetto più nulla Lui ci ha visto Ma sa che lo abbiamo visto Ah, porca miseria No, 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 no Madonna Ragazzi, attenzione Attenzione, attenzione Marchiamolo, marchiamolo Lui non sa che ci sono Ok? Sei stato subito caro mio Bam, bam, bam Bam, caro mio Mamma mia Distrutto Devastato Nel frattempo Noi stavamo morendo E non vorrei comunque Vantarmi di sta cosa Però Siamo riusciti a cavarcela Oddio Wow, amico mio Ma ti vai a mettere Sti casini Ti vai a mettere No, no Dove vai? Dove vai? Non ti far uccidere Non ti far uccidere Ti curo Bro Va tutto bene Tranquillo, vai Va tutto bene Tranquillo Ok, perfetto Siamo riusciti a reanimarlo E usare anche Wow Wow, 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 wow Calmi, calmi, calmi Calmi, calmi Nathan Morto Ok Stiamo attenti No, no C'è un nemico C'è un nemico E io me ne vado Non sto più A capeo, cazzo Io me ne vado via E fugo nella via Madonna ragazzi Scusate Ma sto andando nel panico più assoluto Mori Merda Dai, dai, dai Se mi fai morire Mentre ti rianimo Ok Mamma mia ragazzi Questa cosa sta andando malissimo Ok Sali No Vuol dire che c'è un nemico Aspetta Bru Aspetta Wow Ma No Mori Devo aiutare il mio amico Dov'è Ok, lo stanno rianimando Perfetto Ma tu non eri morto Ok Wow Un attimo Ok Non ci sono nemici Ragazzi Porca miseria Wow Attenzione Bro Bro Ce n'è uno No No Ok Madonna Sono ando avanti di mazzate Ragazzi Non ci posso credere Allora Siamo attenti lì Che vedo altra gente Usiamo il mirino Non ne vedo ora Ah ok E' lì E' lì E' lì Appena vediamo lo schermo bianco Ci conviene buttarci dietro il riparo Quindi Vediamo qui terra così Allarando un po' di monete Ah ma noi Possiamo fare questa cosa No Cazzo E' morto il nostro amico No ragazzi Non posso rischiare Specialmente Mettermi così Esposto No ragazzi Aspettate 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 Dobbiamo Provare a rianimare il nostro amico No bro Vieni qui Se solo fosse venuto qui Porca miseria ragazzi Mi è dispiaciuto davvero Ok me lo sono ricordato Usiamo il nostro China Lake E proviamo Dai Dai Ricaricalo Dai Dai Sì Ragazzi Cazzo Bam Ok Ce n'è un altro lì E bam Caro mio Ah no E' sopravvissuto Ok Eh Sta un po' laghicchiando Lo sbaglio Ok si sbagliamo Scusate ragazzi Stiamo attenti A che Ho l'impressione Ho l'impressione Che stiano venendo da qui E non è un'impressione sbagliata Io me ne vado Ricopriamo un po' di munizione di China Lake Nel frattempo Ricarichiamo Allora Bro Bro Se vieni qui Ti rianimo Se vieni qui Ti rianimo Stiamo attenti C'è John Eaton Come diavolo si legge Ma che è bastardo Oh perché ho ricaricato Come un coglione Attenzione Attenzione Il nemico C'è lì Dai Dai Perfetto Muori Muori Ok Mamma mia ragazzi Ma siamo Wow 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 Vedo troppa gente morta Cosa cazzo sta succedendo Anch'io sto morendo Wow stiamo attenti Calmi Dobbiamo cercare di offrire supporto al nostro amico Perfetto L'abbiamo buttato a terra Vorrei ucciderlo ma Oh il nemico Il suo amico lo rianimerà Ne sono certo Proviamo Ok Ah che io Perfetto è morto Ok Wow ragazzi Ci stanno cerchiando Calmi Calmi Ce ne sono un paio Allora Uccidiamo Johnny Eaton lì Perfetto Poi dobbiamo andarcene Ragazzi andiamocene da qui La situazione si sta facendo troppo troppo calda E noi siamo soli Non abbiamo amici per ora Quindi Wow No torna indietro Torna indietro No guarda Fa presto Dio Bono Santo Mori Dai 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 Ma dai Ok Ragazzi andiamocene Non so da dove possono venire i nemici all'improvviso E questa cosa mi inquietano un poco Nemico lì Nemico lì Nemico lì Dai Dai No aspettate Andiamocene Ragazzi scusate se sto giocando sul safe Ma Wow No Ce l'ho messo a terra No Sono vivo Sono vivo scusami bro Non lo sapevo Scusami Ti rianimo tranquillo Io ho ancora il China Day Siete fottuti ragazzi Fottuti No Sono vivi Vivi Vivissimi Vivi e vegeti Un colpo lì E un colpo lì Madonna ragazzi Non ho ucciso nessuno No il cazzo Ho ucciso un mordato di gente Ok perfetto Abbiamo finito di nuovo le munizioni Ma quasi di tutto mi sa Porca miseria Questa cosa non mi piace per nulla Ma la partita sta quasi per finire La partita Cosa stavo dicendo Allora No 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 Cosa sto facendo Cosa sto facendo Questa è una follia È una follia Madonna è una follia Madonna Una gara No 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 Ho paura solo che ci stiano aggirando Io sto finendo le munizioni No Bro Non mi morire bro Ma porca miseria Ragazzi sono solo Sono solo E sto anche morendo Dove sono gli altri nemici C'è solo uno lì Porca miseria No 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 Dai Che poverino Sto uccidendo sempre a Giannita Non so se avete presente No Con cosa Cosa amico mio Facciamo così No Cosa fai Mettiti dietro Wow 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 Calmi ragazzi Calmi ragazzi Questo ci sta raggiungendo Lo sta facendo apposta Vuole ucciderci Vuole ucciderci C'è il nostro amico Bro Devi aiutarmi tu Spara lì Dai Duck Porca misera Ragazzi Porca miseria ragazzi Calmi 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 Ragazzi Ci sta raggiungendo Siamo fottuti Siamo fottuti Io me ne vado Facciamo così No Ragazzi Sono tre Sono tre Fuggiamo Fuggiamo Se solo riuscisse Di ucciderli tutti Madonna Madonna Dai Ricarica No Siamo morti No Mattene Mattene Ti prego Ragazzi aiutatevi Non posso morire No Ragazzi Porca miseria No Calcina Lake Che bastardo Ragazzi Eravamo quasi riusciti A fare una partita Intera senza morire Non ne ho idea Quante morti abbiamo fatto Peccato Andiamo con il nostro C'è in a lake Bam 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 Sì ragazzi Sì Abbiamo fatto 19 kill Ah due morti Perché Perché due morti Non ne ricordavo Due Comunque ragazzi Abbiamo fatto Una strage Spero che Questo video Vi sia piaciuto Porca miseria Ragazzi È stato davvero Eccezionale Stiamo spaccando Tutto Vi chiedo Un like Un commento E una condivisione Su tutti i social Presenti sulla faccia Della terra E noi nulla Ragazzi Ci rivediamo con Drake Al prossimo episodio Ciao ragazzi